Salve a tutti ragazzi, ho il vostro zettino per questo nuovo vlog, mi scuso in anticipo di non avere nessun capo di abbigliamento particolare ma come notate anche dall'ambientazione posteriore alla mia schiena, sono in vacanza a casa di una persona speciale di cui spunta un braccio in questo momento e quindi appunto non ho i miei propri, i miei capelli stupidi per fare i vlog come si deve Potremmo fare una cosa velocissima? Ma anche no nel senso, ecco, perfetto, ok, grazie Comunque dicevo, faccio un vlog in vacanza per il semplice fatto che settimana prossima succederanno delle cose nuove, delle cose particolari e quindi detto avviso tutti, soprattutto la gente di Youtube che non è ancora stata avvisata di tante 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 cose Settimana prossima, che cosa succederà? Settimana prossima partirà il primo progetto con i Patreon Per chi non ha saputo su Youtube, sì, ho aperto un Patreon che trovate alla pagina ovviamente www.patreon.com.czmazzincaz92 Lo trovate nei link di tutti i video più recenti e su Facebook tranquillamente la pagina degli dipendini è puntato in cima Il Patreon a cosa serve? Semplice, ci sono mille vantaggi, mille cose, ci sono appunto, qua vedete, alcuni post particolari, sondaggi, ci saranno un sacco di cose per i Patreon Ma soprattutto i Patreon da 5 dollari in su avranno la possibilità di giocare con me in una campagna open table su Dungeons & Dragons tutti insieme Cosa vuol dire open table? Semplicemente vuol dire che non è necessario che ci siate sempre ogni volta che giocheremo Una volta barra due volte al mese a seconda di quanta partecipazione si sarà Ma ogni volta che avrete voglia potrete partecipare con il vostro personaggio che potete scegliere tra La miriade dei personaggi della gilda degli esploratori barra avventurieri barra devo ancora decidere come chiamarla Comunque detto questo la gilda partirà settimana prossima con probabilmente tre membri all'attivo in questo momento Quindi chiunque sia appunto Patreon da 5 o più che non abbia ancora partecipato e scelto il suo personaggio tra quelli disponibili Si faccia vivo perché appunto così partecipiamo tutti insieme Non serve una connessione della madonna non servono neanche le webcam cioè meglio ma non è necessario Semplicemente serve voglia di divertirsi e di giocare tutti insieme Potremo farle live potremo farle registrate assolutamente non c'è problema alla fine è una cosa è un regalo che io faccio ai Patreon Quindi se non c'è disponibilità di giocare in live si può giocare tranquillamente registrato e poi si può mettere la puntata tranquillamente sul canale YouTube Tutti gli altri Patreon tutti i tiri inferiori hanno altre ricompensi che potete andare a controllare tanta 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 roba I Patreon di livello più alto hanno delle ricompense bellissime tanto continuo a ringraziare Max Caccascino che ha fatto questi disegni meravigliosi Che sono veramente il meglio della vita Se vi ricordate c'è stata un'altra campagna diciamo sort of open table precedentemente che era Heroes Community con Urban Heroes in cui avete giocato parecchia gente in effetti Ci sono state 6 partite con 6 squadre diverse e avevo promesso in effetti un premio per il miglior Heroes Purtroppo vari problemi personali, vari problemi di canale, vari problemi di... Mi vergognavo un po' ormai a farlo perché sembrava che mi fosse dimenticato Non era vero, semplicemente avevo da fare Mi hanno portato a non far più la votazione Quindi a proposito sotto questo video iniziate a votare il vostro personaggio preferito di Heroes Community Come il regolamento iniziale diceva non possono essere votati ovviamente gli ospiti Quindi le persone che hanno partecipato perché ex partecipanti di varie campagne Quindi avete tranquillamente capito diciamo i capitani tra virgolette Non possono, esatto tipo Martina, non possono partecipare all'estrazione Tutti gli altri ovviamente invece sono volentieri possono partecipare, possono votare Tutti invece possono votare e vedremo chi è l'eroe, il vostro eroe preferito A settembre, dato che ci siamo presi più o meno un mesetto, un mesetto e mezzo di pausa Riprenderemo con una campagna fissa di GDR Insieme a Argon, Thomas, Panda e Bruno Andremo a esplorare le profondità della roccia Sarà il nome della campagna E sarà una campagna con l'ambientazione personale creata da me Dove esistono solo nani Sarà testosteronica da morire Sarà all'insegna del proprio nanismo più violento E spero che vi divertirà molto Perché è un'ambientazione a cui ci lavoro da tipo un annetto Quindi spero sia di vostro gradimento In più posso farvi una piccolissima preview Nel mese di settembre uscirà un kickstarter di un nuovo gioco di ruolo italiano Che si chiama Rockopolis I cui creatori si sono dimostrati disponibili a masterarci una one shot In modo da, una volta uscito il kickstarter, farvi conoscere il gioco In modo da farvi appassionare È un gioco di ruolo sul mondo della musica e sul rock and roll Quindi sono sicuro che tanti di voi piacerà Argon Ad esempio ho svenuto quasi quando gliel'ho detto Quindi sapete già benissimo cosa giocheremo noi Dovremmo essere una band E so già che tipo di band saremo Ovviamente Pop Io dico ad Argon e si uccide credo Pop oppure non lo so Il Trapper Un bella musica trap Così mi uccidono gli autori e Argon Bene ragazzi Quindi qualsiasi altra cosa che non sia chiara Da questo piccolo vlog molto confuso Molto incerto Chiedetemela pure Io adesso rimostro la mia bellissima capoccia Con un segno gigante qui di differenza Guarda che bella la testa qua rossa e qua bianca Sembrano veramente le pelate finte che si mettono gli attori E si scopre che io ho sempre avuto i capelli Adesso mi dico una cosa C'è una chioma più lentissima Mi sono innamorata della persona sbagliata Votate il vostro video preferito Mi raccomando iscrivetevi a Patreon se volete giocare insieme a noi Se invece volete aspettare la prima sessione per vedere In cosa consisterà la gilda Lega degli esplodatori e avventurieri Adesso poi il titolo definitivo lo scrivo E me lo tato sulla fronte No sul braccio così lo posso leggere Attendete probabilmente martedì prossimo Vedo le partecipazioni di quelli già iscritti Se possono Martedì prossimo molto probabilmente ci sarà la prima sessione In modo da vedere che cosa fate Il dungeon Tutta la campagna open table sarà Girerà attorno a un gigantesco dungeon appena scoperto E i vostri personaggi e tutta la vostra gilda Dovrà andare a esplorare le profondità di questo dungeon Lunghissimo È fatto in modo da durare quanto ho voglia di farlo durare Quindi Spero vi sia stato chiaro Nel caso Ripeto Richiedete tranquillamente quello che volete Disponibilissimo rispondere Come sempre Noi ci vediamo alla prossima E ciao a tutti E bye bye